Ancora mistero fitto sull'omicidio di Aniello Maione, il 77enne trovato morto ieri nel cimitero di Santa Anastasia in provincia di Napoli, colpito con quattro offendenti alla schiena. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna infatti stanno scavando nella vita dell'uomo per cercare di capire chi e perché abbia ucciso il pensionato. Stamattina i militari sono tornati nel Camposanto per cercare nuovi indizi e l'arma del delitto che ieri non è stata trovata. In queste ore sono stati ascoltati i familiari e gli amici della vittima e ora si cerca anche qualche testimone, qualche persona che tra le 14 e le 15 di ieri, orario in cui si sarebbe verificato l'omicidio, si trovava nel cimitero e possa fornire qualche particolare utile alle indagini. Per ora pare sia esclusa l'ipotesi di una rapina finita male in quanto l'uomo portava con sé sempre poche decine di euro ritrovate peraltro nelle sue tasche. Nel frattempo a Santa Anastasia la popolazione si interroga sui motivi del brutale delitto. Aniello Maione era conosciuto e benvoluto, l'uomo che in passato aveva lavorato nell'ex stabilimento locale delle corderie e ricordato con affetto e pare non avesse nemici. Il 77enne si recava spesso al cimitero per pregare sulla tomba dei propri cari così come aveva fatto ieri prima di essere raggiunto alle spalle dal suo assassino.